La felicità del matrimonio non è qualcosa che semplicemente accade, un buon matrimonio deve essere creato, in un matrimonio le piccole cose sono le più grandi e non c'è mai troppo vecchi per tenersi mano in mano, è ricordarsi che diventiamo almeno una volta al giorno, non è mai andare a dormire aggrabbiati, è mai darsi per scontati l'un l'altro, perché le attenzioni non finiscono con la luna di via, ma continuano giorno dopo giorno, è formare un cerchio d'amore che accoglie in tutta la famiglia, è fare le cose l'uno per l'altro, non per dovere o per sacrificio, ma con lo spirito di gioia autentica, e avere la capacità di perdonare e dimenticare, e creare un ambiente in cui ciascuno potresce, vi auguro con la felicità. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.